Buongiorno e benvenuto, mi chiamo Gianni Cisternino e sono il referente commerciale per Goodify. Ti do il benvenuto e ti anticipo che i contenuti di questo video non sono divulgati a tutti, ma sono rivolti esclusivamente a tutti coloro che sono interessati a conoscere un nuovo ed innovativo progetto e valutare una possibile collaborazione e partnership. Se stai guardando questo video, ti consiglio di prenderti qualche minuto perché avrò modo di spiegarti chi siamo, cosa facciamo, qual è il nostro prodotto e che tipo di collaboratore stiamo cercando. Stiamo selezionando i primi rappresentanti in Veneto, Lombardia, Trentino, Alto Adige e ci piacerebbe farti conoscere i motivi per i quali vale la pena approfondire e magari incontrarti a Verona il 18 febbraio. Bene, parto col dirti cosa mi spinge a parlarti di Goodify. Goodify è la prima startup che fa del bene. È una community etica di consumatori e negozianti uniti dalla voglia di fare del bene. Ti chiederai come si può fare del bene. In un modo molto semplice, Goodify è una piattaforma in cui chi acquista, chi vende, fa del bene destinando l'1% dell'importo dello scontrino a enti sociali scelti direttamente dai clienti. Entrare a far parte della community di Goodify ti permetterà di ampliare la tua clientela, fidelizzare quella esistente, creare un valore etico alla tua attività e aumentare i tuoi ricami. Perché è importante partecipare alla giornata del 18 febbraio Verona? Perché Goodify può esserti utili? La formula gioca il tuo scontrino, fai del bene e vinci, ti rende speciale agli occhi del cliente perché gli offrirai due vantaggi concreti. La certezza di fare del bene e la possibilità di vincere. Ti aspetto il 18 febbraio a Verona insieme ai fondatori di Goodify e alle associazioni benefiche che ne fanno parte. Ti mostreremo come fare del bene ti fa stare bene e può portare un nuovo modo di fare il business. Ti aspetto!